Grazie a tutti. Nell'invio massivo di email con MailPoet e MailChimp. Quindi lascio la parola a te. Sì, sì, prego, prego. Dunque, più che ottimizzare, evitare di vanificare l'invio di email utilizzando appunto questi sistemi, io li chiamo sistemi perché allora MailPoet è un plugin, MailChimp non è un plugin di Wordpress. Penso che questa cosa qua sia meglio chiarirla. Mentre MailPoet è un prodotto, è proprio un plugin che si installa e funziona all'interno di Wordpress, MailChimp è un sistema erogato in modalità SAAS, software come servizio. Allora, perché sono qui a parlare di MailChimp e non parlo di tutte le altre soluzioni che esistono sul mercato? Non esiste soltanto MailChimp, sappiatelo. MailChimp è forse il più diffuso, perché se voi fate una ricerca su Google, cercate MailChimp, che cosa vi risulta? Tutti i competitor hanno scommesso sulla parola MailChimp e quindi trovate i competitor e non trovate MailChimp, perché hanno fatto un investimento di AdWords su quella parola. E anche con MailPoint è la stessa cosa. Quindi detto questo, è chiarito appunto che uno è un plugin che vi permette di fare tutto all'interno di Wordpress, l'altro invece è un sistema SAS, software come servizio, che vi permette quindi di mandare le mail. e cosa c'entra MailChimp con MailChimp? Se voi avete un sito fatto con Wordpress, cosa c'entra MailChimp con Wordpress? Se avete un sito fatto con Wordpress, sapete che Wordpress ha i feed, giusto? Vostro nome, facciamo wired.it barra feed, giusto? Vedete tutti i feed. Quei feed lì potete utilizzarli all'interno di MailChimp e farvi un giornale, un quotidiano, mandato con cadenza, giornaliera, mensile, settimanale, che va a pescare i contenuti del vostro sito e li spedisce una lista. Questo è il concetto. Dopo esistono dei plugin per fare in modo tale che, ad esempio, quando qualcuno si iscrive alla vostra mailing list, lo fa tramite una piccola form che mettete nel vostro sito, dammi il tuo nome, dammi il tuo cognome, dammi il tuo indirizzo e si va a iscrivere direttamente nella lista, giusto? Allora, noi oggi siamo qui a parlare di DEM. Che cosa vuol dire DEM? Direct email marketing. Però nel mondo pubblicitario, genericamente, la mia società, qualcuno, i miei clienti mi dicono fammi una DEM. Nel gergo, lo dico per distinguere, perché tante volte queste parole possono creare confusione, no? Dare email marketing è una disciplina. Fare una DEM vuol dire creare un messaggio da spedire via emailing per fare la pubblicità, per cercare di ottenere la vendita di un prodotto, l'iscrizione a un seminario e via di seguito. Qui purtroppo io, ah, questo qui, ecco qua, perfetto. Basta schiacciare queste cose qui. Mi devo metterli lì o no? È uguale. Allora, queste qui sono le tematiche che dobbiamo affrontare oggi. Abbiamo pochissimo tempo e cercherò di essere velocissimo. Quindi i benefici dell'uso dell'email marketing, gli aspetti tecnici necessari per non vanificare i risultati, dell'invio di massivo di email personalizzate tramite, vabbè, tramite MailChimp e MailPoil, come vi ho detto, però potete utilizzare quello che volete. Dopo vedremo anche. In Italia, ad esempio, il più famoso di tutti è MailApp, credo. Sistemi SAS, software. Ah, vabbè. Ma intanto ho una voce così forte che potrei parlare anche senza... Ah, scusatemi. D'accordo, d'accordo. Cercherò di tenere il... Ma qui diventa disastroso. Vabbè. Indicazioni sulle verifiche da effettuarsi prima dell'invio di newsletter ed em. Quindi vediamo questi argomenti. Dove stiamo operando? Stiamo operando in un cambio... Io definisco pubblicitario, perché stiamo facendo la pubblicità in un certo senso, giusto, no? Le newsletter è uno strumento per fare pubblicità. A differenza della pubblicità normale, che è quella chiamata ATL, above the line, noi qui ci stiamo muovendo in un ambito, in una disciplina che è quella del below the line. Quindi non stiamo parlando della pubblicità che crea emozioni, che cerca di far venire, ricordare il brand, nel momento che il consumatore poi dovrà comprare, quindi dice, ah, mi ricordo il cagnolino con la carta igienica, queste cose qua. Quindi non è un ambito in cui si suscitano emozioni. Qui siamo in un ambito in cui dobbiamo ottenere delle azioni. Noi mandiamo un messaggio a qualcuno e diciamo, fai questa cosa, e quel signore lì la deve fare subito. Non dire, no, dopo quando vado al supermercato la faccio. No, glielo devi mandare e lui la fa. Quindi siamo, a differenza delle above the line broadcast, siamo nel below the line one to one, unicast, dove appunto la comunicazione è personalizzata, c'è una disintermediazione, c'è il produttore direttamente verso il consumatore, e cerchiamo di ottenere una risposta, e non soltanto un ricordo, oppure la brand awareness e cose del genere. Quindi, genericamente, quando parlo di queste cose, siccome il direct email marketing ha un pad reputativo, che è il direct marketing, voi siete piemontesi, siamo nel Piemonte, il Piemonte è la patria del direct marketing. Ogni tanto qui così si stacca. Ah, è normale? Vabbè, vabbè. Quindi, perché è la patria del direct marketing? Giordano Vini, Biella, esistono tantissime società che lavorano con il direct marketing, tendenzialmente il Piemonte è la regione dove più di tutto in Italia si usa molto il direct marketing. E il direct emailing è una mediazione, o se vogliamo, ha preso tutte le nozioni del direct marketing, la portate su un media diverso, che non è quello cartaceo, ma è quello digitale. genericamente io quando cercavo di assumere dei ragazzi per la mia società, nel direct, che ha sempre fatto direct marketing, venivano tutti da me e dicono ah, ma quella roba lì, quella roba lì che tutti buttano via, io non c'ho voglia di lavorare, io voglio fare... E genericamente il grafico vuol fare il creativo, quello famoso, blasonato, no? Invece qui siamo appunto in un mondo dove non conta ciò che è bello o brutto soggettivamente, ma deve essere qualcosa che funziona, qualcosa che funziona, non che piace o non piace, ma deve funzionare. Questo è importante da ricordare perché molte persone che lavorano nel direct marketing ragionano in termini soggettivi, dicono questa cosa qua non mi piace, quindi non la spedisco. attenzione, bisogna fare delle prove. Nel direct marketing e nel digital e mail marketing la cosa che conta più di tutti è fare delle prove e diciamo, essere delle persone attente ai risultati e alle metriche. Questo signore qui, non so se lo conoscete, è il famoso CEO della Cambridge Analytica, no? Scusate, è quello che a me si impiede quel sistema appunto, di guardare i dati, di saper guardare nei big data. Mentre là, l'altro signore, non so se voi siete degli appassionati televisivi, io poco, ma mi dicono che è molto famoso perché ci ha fatto una serie televisiva Mad Men, la signora lo conosce. Era famoso perché questo signore, attenzione, anche qui ci vogliono le idee, però diciamo che negli anni 50, dove appunto la pubblicità above the line, quella famosa della televisione, ha avuto il massimo fulgore, chiamiamolo, la devo tenere sempre a costruire, ce la faccio, cercherò di fare così, dai. Allora, quel signore lì, no? Non c'è più spazio per lui, adesso lo spazio è per il Mad Men e non per il Mad Men. Qui, velocemente, guardiamo un attimino in che ambito è sempre stato utilizzato il direct marketing, il digital marketing, B2B e B2C non ci sono distinzioni, se per qualcuno di voi queste sigle sono difficili da capire, ve la dico semplicemente, semplice, semplice, B2C è quando mi rivolgo a qualcuno che spende i soldi di tasca sua, business to consumer, B2B è quando parlo a qualcuno che usa i soldi di un altro, vi va bene? Va benissimo. Allora, editoria, telecomunicazioni, Utility TV, diciamo che l'editoria storicamente è proprio il settore merceologico dove più di tutti si è usato il direct marketing e tuttora noi lavoriamo soprattutto con il direct marketing in cartaceo proprio per l'editoria. Le telecomunicazioni, Vodafone, TV Skype, queste qui sono le società che usano moltissimo, organizzazioni non profit, associazioni in categoria, movimenti sociali politici, automotive, anche quando vendono le auto, io ho una sub, ogni tanto mi arriva la letterina, vuoi cambiare la sub? No, tengo la mia vecchia che va bene. Largo consumo, nel retail e via di seguito. Perché vi faccio vedere questa slide? Perché tutte le volte che noi andiamo ai vari congressi, dei pubblicitari, delle associazioni pubblicitari, salta sempre fuori che il direct marketing e il direct emailing non vengono neanche menzionati. Allora, siamo qui a parlare, perché parliamo di una cosa che nel mondo pubblicitario non assorbe nulla dei budget? Se vedete qui, il digital, forse è anacquato nel digital. Perché? Perché se invece andate a sentire tutti i marketer, ossia i responsabili di marketing delle società, tutti dicono che lo usano. Molto probabilmente diciamo che una risposta a questo gap sta nel fatto che lo usano in casa. Noi abbiamo provato per molte società che hanno portato in house il servizio di direct. Quindi lo fanno fare internamente. Internamente. poi un'altra ragione perché usare l'email marketing è perché abbiamo una massa. È la killer application. Se voi dite a qualcuno che cosa fa quando accende il computer la prima cosa che fa è guardare l'email. La seconda guarda Facebook la terza forse si mette a fare delle ricerche su Google. Però diciamo che la cosa è così. La prima cosa è l'email. Dopodiché viene il social e poi viene il search. sono le tre killer application del web. E qui siamo davanti a un pubblico che continua a crescere. Nel 2020 si presume che ci saranno più di 4 miliardi 174 milioni di persone che usano l'email. Di queste persone tra l'altro il 95% lo usa quotidianamente. Quindi abbiamo davanti a noi un bacino molto interessante da usare. Quindi qui si parlava di delle soluzioni ve le ho già anticipate prima. Nel mondo di WordPress o genericamente anche quando parlo con gli amici la cosa più diffusa è MailChimp è per quello che ho scelto di citare MailChimp anche se appunto oggi non è che abbiamo tempo per fare una demo magari ce la facciamo. Altre soluzioni qui vi ho detto MailUp ho selezionato Sendinblue perché è europea perché c'è anche la paranoia di dove sono i dati anche se MailChimp ha detto ragazzi state tranquilli io ho fatto il famoso Safe Harbor l'accordo con l'Europa l'America i dati sono anche se sono in America però la cosa non è ancora tutto chiara il GDPR non ha risolto questo problema qua ve lo dico non vorrei che da un momento all'altro gli europei si arrabbiano e cominciano a dire no i dati devono stare in Europa tra l'altro i dati di tutta la comunità europea sono in America sul server di Amazon ecco questo qua è una slide importante su cui vi chiedo di un attimino di riflettere e di capire bene perché appunto adesso noi parleremo di newsletter e di dem o quantomeno io uso queste due terminologie per cercare di distinguere la newsletter genericamente io la intendo come un prodotto che viene mandato con una certa cadenza e non fa altro che è una specie di house organ vi va bene? è una mail rinviata con dei contenuti che non debbano essere necessariamente totali genericamente l'abstract perché dopo uno clicca e va a leggere il contenuto giusto no? quindi una newsletter è intesa in questi termini newsletter è intesa come qualcosa che va a prendermi gli RSS mi produce un giornale un notiziario e lo spedisce mentre invece con dem con il termine dem io intendo dire proprio un messaggio email creato appositamente per generare un'azione in chi lo riceve questa distinzione è importante ah poi appunto l'emailing non fatevi confondere queste cose qui le ho messe qui solo per ricordarmi che l'emailing non è solo le due cose che vi ho fatto vedere prima ma ci potrebbero essere anche le mail transazionali le mail automatizzate qualcuno ha lasciato le cose nel carrello mandiamogli una mail in automatico trigger non so non ho reso l'idea oppure qualcuno ha compilato qualcosa dobbiamo mandargli la fattura quindi siamo nel mondo delle transazioni ecco altro argomento importantissimo liste fredde e liste calde perché ho messo questa slide per ricordarvi una cosa importante genericamente noi stiamo parlando di due sistemi MailChimp e MailPoet che vi dovrebbero servire a creare liste vostre con cui stabilire un rapporto di fiducia avrete ottenuto consenso quindi clienti o persone con cui avete un rapporto fiduciario a cui mandate delle informazioni sappiate però che esiste sul mercato esistono molte società che vendono le liste la parola vendono attenzione c'è una gente ho comprato quelle mail qua ma non puoi usarle se non hai avuto il consenso attenzione esistono in giro delle società che le vendono queste cose qui ma è tutto legale però dopo usarle devi avere il consenso queste società però fanno anche un altro mestiere dicono senti mandami una mandami dell'HTML con il messaggio che vuoi mandare io per te lo mando a tutti quelli che mi hanno dato il consenso se li volete conoscere andate allo IABA sono tutti là AdSalsa Antevenio Intera la RCS con il suo nome queste società qua noleggiano delle liste il termine giusto secondo me è noleggio ossia vi dicono se tu hai un messaggio me lo dai lo mando via io lo dico questo perché adesso vedete nelle slide successive quando dovete fare le dem in quel senso dovete preparare in una certa maniera quando voi usate MailChimp e MailPoet avete un editor o EasyWing mettete dentro le cose l'HTML non lo vedete neanche c'è un click dice fammi vedere il source vado a vedere il source vado a vedere per modificarlo tanto ci pensa già lui avete preparato il vostro messaggio lo spedite la cosa più importante da fare quando voi mandatevi una mail è pensare all'oggetto ogni tanto sbaglio dico soggetto oggetto l'oggetto della mail è fondamentale qui ho messo tutte queste voci qui adesso le vediamo a una a una è fondamentale quindi l'oggetto perché diciamo che nel 69% si viene classificati come spam dal soggetto dall'oggetto scusate però l'oggetto è anche importante per un'altra cosa la gente apre le mail guardando l'oggetto adesso vedremo altre cose però l'oggetto è una cosa fondamentale il 47% dei destinatari apre le mail in base all'oggetto ve l'ho già detto prima e qui così fa anche delle percentuali sul ah un'altra cosa importantissima personalizzare l'oggetto Mario ti offro su no quel coso Renato Genoveffa mettere il nome è importantissimo no? e qui è una slide che vi fa vedere che mettendo il nome nell'oggetto ossia personalizzando anche l'oggetto caro Mario caro è già difficile da fare perché c'è cara è meglio mettere solo il nome Mario virgola oppure gentile perché gentile va bene per la donna e per il maschio se volete avete un sistema un po' più classificato dovete ma adesso non andiamo nel sofistico però è importante mettere subito il nome nell'oggetto breve essenziale poi non può essere una poesia non possiamo mettere la divina commedia nell'oggetto attenzione perché la gente appunto qui così è una slide per farvi vedere delle percentuali che il miglior risultato lo si ottiene con 8-10 parole o 16 parole queste cose del genere queste slide qui sono poi a disposizione di tutti hanno i link funzionali se non ve li mette wordpress sul mio profilo personale in slideshare su linkedin le trovate ecco qui c'è un'altra cosa molti io ho avuto dei clienti che mi hanno detto mi metti generalmente sono le signore voglio voglio vabbè te la metto infatti mia moglie che è la mia socia dice non parlare mai con i clienti tu perché non puoi bere però genericamente mettere l'iconcina sembra che sembra che in alcuni casi io non onestamente non ho dati per non ho dati personali per dirvi generalmente evito di farlo però sembra che in alcuni ambienti in alcuni i viaggi cose del genere venga molto usata venga molto usata più del 50% delle email ecco altro fattore importantissimo noi creiamo la nostra email dobbiamo tenerci in mente una cosa fondamentale sto parlando correttamente se mi correggimi se sbaglio io cerco di fare il mio meglio va bene va bene ma guarda siamo già a buon punto ce la facciamo più del 50% delle email se viene letto su parecchie mobile su telefoni questa cosa è fondamentale da tenere presente quindi voi quando progettate la vostra la vostra dem sappiate che dovete farla per mobile ve lo dico soprattutto nel caso in cui dobbiamo mandarlo tramite qualche donato perché sia MailChimp e sia MailPoet hanno già pensato loro di farla per mobile è chiaro che se dopo tu sei così stupido tra virgolette di andarti a prendere il template che va bene solo sul desktop sono cavoli un po' tuoi ecco adesso MailChimp aveva tanti templates vecchi che erano ancora per il desktop soltanto io uso soltanto templates per il mobile però siccome appunto abbiamo detto che io spero di parlare a un pubblico che non voglia sapere solo che ora è ma vuole sapere come è fatto l'orologio quindi è bene sapere anche queste cose qui dell'html come farlo come non farlo e le guardiamo in questa slide ripeto se voi state usando MailChimp e MailPoint non è che vi interessi molto saperlo è meglio però se state utilizzando uno di quei fornitori che vi ho detto prima vi dice per favore mandami un html lui stesso vi dà delle specifiche Manzoni Intera ReCS adesso vi dicono senti mandami l'html però per favore per favore l'immagine non deve essere più di 500 pixel il bilanciamento dell'immagine del testo è 40 il 60% questa cosa qua del bilanciamento non serve soltanto però perché viene chiesta da questi signori qua è anche per evitare gli anti-spammer e per altre cose e anche perché questa storia del 40 il 60% una cosa importante che io cerco di far capire a tutti quando vi arrivano i mail vi ricordate che sulla destra vi dice se c'è solo un'immagine voi non vedete nulla giusto? c'è l'immagine se avete Outlook va bene se avete l'iPhone l'Apple vedete già l'immagine ma i famosi client di posta che non vi fanno vedere l'immagine vi perdete tutto il messaggio non la guardate neanche a me di quelli di Vodafone che mi mandano tutto una GIF o un JPEG non li guardo se invece ci sono due o tre parole mi interessa la cosa mi interessa quindi questa storia qua di mettere le parole è fondamentale poi una cosa importante mettere sempre light il title alle immagini non CSS perché non funziona a meno che mettetegli in line style se non sapete che cosa sono andate a vedere questo zurb.com che è una foundation che vi spiega tutto su sta faccenda qua no background image quanti di voi mettono le background image nell'emailing non c'è nessuno avete vergogna di dirlo e poi no animation chissà quanta gente ma non mette l'animation a meno che aspettate c'è anche il modo intelligente di metterla mettete un animation che magari però il messaggio sia comunque concepibile visibile da coloro che non possono hanno il client che non fa vedere l'animation e poi no meta query ma codice ibrido codice ibrido penso che ecco è un link a un titolo un americano di limitus che vi spiega che cos'è con calma se volete andarvelo a vedere dopo lo volete vedere benissimo adesso vi ho fatto vedere una slide e questa slide dice dimenticatevi tutto quello che ho detto prima è tutta un'altra storia se volete se siete bravi qui la serie di storie c'è qualcuno che riesce a io faccio windsurf però non posso dichiararmi un campione windsurf sono un imbranato faccio delle cose però se uno è bravo può fare anche non so può tentare di fare windsurf sull'onda sono in 5 o 6 che lo fanno però lo fanno d'accordo però detto questo non è che sia proprio così difficile fare l'email dicendo diciamo non tenendo conto di tutti i requisiti che vi ho detto prima lo potete fare comunque perché sia MailChimp e sia MailPoet hanno al loro interno un editor che vi permette di fare queste cose qua però l'importante è saperli questi sono dei punti da sapere e da conoscere perché possono essere talvolta degli ostacoli o meno siccome vi ho detto fin dall'inizio questa disciplina è una disciplina che presuppone il fatto che voi dobbiate sempre fare delle prove dovete fare delle prove 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 non è una disciplina per quelli che dicono lo faccio una volta poi non lo faccio più vedo cosa è successo non va bene non va bene bisogna fare prove e riprove allora un'altra cosa importantissima la deliverability per poter superare gli antispam dovete avere il consenso preventivo avere un SMTP professionale cosa vuol dire SMTP professionale qualcosa che vi permette di fare degli invii massicci se dovete mandare 100 mail ogni due minuti almeno non ve ne frega ma mettiamo 100.000 mail in un giorno non lo so dovete avere un server professionale e poi SPF di KIM la firma queste cose qui le potete andare guardando approfondendo meglio questi concetti che sono fondamentali per superare gli antispammer utilizzare testo e immagini ve l'ho già detto prima evitare l'uso di parole vietate maiuscole questa è una regola che è tutta da discutere è una regola americana a me non risulta che parole italiane proibite esiste una lista di parole americane proibite in fondo a queste slide esiste tutta una serie esistono dei link che vi rimandano proprio a un a un sito dove si elencano tutte queste parole da non usare essere chiari su chi manda il messaggio e inserire anche un indirizzo fisico ossia io sono la Roger sono in viale Brianza al 31 e questo qua è il mio telefono e la mia partita IVA meglio farlo se per chi vuole fare diciamo delle prove suggerisco di utilizzare questo sito che vi permette di vedere appunto se siete conformi una cosa importantissima è creare una landing page funzionale è inutile preparare un messaggio se poi voi non avete preparato una landing page responsive ho preparato un messaggio e poi lo faccio otterrare sul sito qualunque non va bene non solo ma avete usato un url per tracciare esiste Google Google url creator Google url che vi permette di creare degli url che vi consentono il tracciamento di conseguenza quando una persona è atterrata potete vedere il percorso che ha fatto se è veramente arrivato fare i confronti eccetera eccetera e mettere un modo di raccordare altri ma poi questo dipende da che tipo di mail state facendo qui vi segnalo due cose importanti un indirizzo email potete mandare la vostra email a questo indirizzo vi viene mandato immediatamente un rapporto che vi dice se siete degli spammer o meno è il primo in alto il secondo invece è utile da usare per vedere se la vostra email che avete generato e creato ha dei problemi ha dei problemi vi faccio vedere la schermata qui non vi faccio vedere tutte le sequenze questo sito gli mandate la vostra email e guardate i risultati io ho mandato una mail ho ricevuto la sufficienza 6 su 10 dopo c'erano tutti dei problemi questo non va bene questo non va bene vi dice tutto ciò che non va bene è molto utile da usare ed è un servizio che è stato sponsorizzato molto da MailPoet altra importante notizia queste due società sono le migliori società secondo me al mondo per controllare se la vostra mail è stata fatta bene costano sono servizi che costano entrambi le società vi dicono se vi dicono se avete fatto ho fatto un bel lavoro e la vostra email è visibile su sui su mobile quindi nel fare la mia ho preparato la mia Dem la voglio mandare devo tenere conto di una cosa non sto diventare pazzo a cercare di vedere se viene letta su qua perché c'è l'uno per cento cerchiamo di concentrarci quando facciamo le prove sui client più diffusi i client più diffusi sono Google Apple e via dicendo altra cosa quando è che è meglio spedire meglio spedire il martedì lo dicono tutti ma come mai insomma io ho letto dappertutto che dicono tutti è meglio il martedì lunedì la gente è incazzata è tornata dalle vacanze venerdì non gli va bene ecco così ci sono in giro diversi studi l'ho preso uno a caso ragazzi ci sono sempre su i riferimenti alle fonti però adesso ho quasi finito ho quasi finito ecco dopo un'altra cosa importantissima le metriche abbiamo mandato la nostra mail abbiamo fatto la nostra campagna benissimo e adesso dobbiamo misurare 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 chi ha letto il messaggio l'open rate chi l'ha cliccato click rate a me dei due ragazzi io click rate a me non me ne frega nulla a meno che sia un editore ecco se sono un editore che mando la newsletter mi interessa però la cosa importante è il click rate perché soprattutto l'open rate perché non è non è un parametro misurabile se avete un iphone venite misurati come persona che è aperto in realtà non è vero o quantomeno è un parametro voi sapete che come si misura l'open click l'open rate si misura con un'immagine nascosta di conseguenza se il vostro client vede già l'immagine voi venite misurato come se aveste letto il messaggio cosa che invece non è vera quindi non è un parametro attendibile il percorso della landing page invece è importante e l'altra cosa importante è il bouncing e l'unsubscribe bouncing dovete tenere le liste pulite unsubscribe tutti quelli che si sono tolti mi raccomando non cancellateli uno grande errore eh hanno sul sole li cancello va bene ma come dopo ti rientra dall'altra finestra perché vai a fare una fiera raccogli dei dati era lo stesso che si era tolto lo rimetti dentro si incavola di nuovo quindi unsubscribe tenerli lì mailchimp vi permette di tenerli lì anche 10.000 fino a 2.000 non vi fa pagare ma gli unsubscribe dei bounce li tiene lì i bounce sono quelli che invece appunto c'è l'hard bounce e il soft bounce se uno ha la posta piena è un soft se uno invece non esiste più avete sbagliato avete scritto yahoo.it al posto di yahoo.com quello lì è un hard bounce ok poi altra cosa ho finito adesso ragazzi un'altra cosa importantissima che criteri le metri dei risultati come faccio a vedere se io ho fatto una campagna che ha funzionato o meno il ROI secondo me il return of investment non è una metrica adatta a mio parere all'emailing a meno che vendete delle automobili faccio una campagna per vendere il modello della Tesla che costa 85 mila euro ok vediamo ho speso tot ho venduto tot macchine e facciamo quattro conti ce l'ho fatta ce l'ho fatta benissimo però se io sto mandando come ad esempio subscription abbonamenti vendita per corrispondenza faccio la vendita per corrispondenza ok mi chiamo Bonprix che è piemontese mando delle mail ma se io mi sono conquistato un acquirente quell'acquirente lì dopo mi comprerà ancora le prossime volte quindi è meglio usare la metrica del lifetime value dove spalmo nel tempo i soldi spesi per l'invio su tre anni due anni cosa del genere in alcuni casi dove non si può fare neanche questo tipo di metrica si usa il key performance indicator ossia si fa una misurazione basandosi sui risultati dell'anno precedente oppure di parametri che ci hanno dato la direzione e che non conosco mi hanno detto tu devi fare quella roba qua devi raggiungere queste cose qui fuori dalle scarse ho finito questo qui è solo per dirvi una cosa questa slide è importante non potete fare questo mestiere on spot lo faccio per provare mettetevi in testa che dovete farlo scientificamente e ripeterlo 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 testarlo 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 vedete cosa è successo prima perché non hanno fatto cambiare sapete che c'è anche test A test B queste cose qua questo è il mondo questo qui è per ringraziare tutti quanti non ho messo Paola perché non c'era ho messo Francesca e vi ringrazio tutti quanti in quest'ultima slide vi ho messo gli indirizzi se volete andare ad approfondire se avete delle domande io sono qua abbiamo ancora tempo per una domanda veloce se qualcuno vuol farsi avanti quant'è un valore buono da intendersi per ogni invio in termini di anche se l'abbiamo abbiamo detto non è un valore indicativo per l'open rate e il click rate in vattore percentuale l'open rate non lo posso dire perché di sicuro te lo posso dire se usi delle liste fredde genericamente il mondo di questa gente qua ti dice che il 10% è un buon valore l'open rate se invece usi se invece parliamo di come posso giudicare l'open rate in base al settore merceologico in cui opero esiste un bellissimo documento di Litmus che ti fa vedere proprio in questi giorni io ce l'ho qua se volete ve lo faccio vedere che che dice che siamo sul 30% ah scusatemi se voi poi usate MailChimp ve lo dice MailChimp vi indica il settore in che settore merceologico operi come si chiama quello lì del no profit no profit 30% 30% lo so farmaceutico mi sembra che il farmaceutico sia uno dei più alti open rate e quindi MailChimp lo dice ti dice proprio guarda che tu sei sei in un range ti dice sia il range dell'open rate e sia il range del click through tutti e due mentre invece se stiamo parlando di liste fredde sembra che i valori sono il 10% sull'open rate ma addirittura invece il click through sono sotto sotto l'uno zero è qualcosa eh come scusa come un banner su un sito ah si qualcosa del genere no però diciamo secondo me io il banner addirittura penso che non esiste più non lo so non ci ho mai creduto nei banner anche se devo fare una campagna adwords la faccio sul search ma sul display no ma poi dipende da cosa si vende ragazzi non possiamo dire nulla dipende da che cosa si vende perché se se io vendo se io vendo il paradiso ti do il paradiso un casino di gente mi da il click non lo so dipende da che cosa si vende altre domande? va bene basta